Oggi primo agosto la chiesa festeggia Sant'Alfonso Maria dei Liguori, la città di Pagania in festa per il suo copatrono. Le spoglie del dottore della chiesa sono conservate all'interno della basilica fatta costruire dal santo famoso in tutto il mondo, anche per aver scritto e musicato l'inno del Natale, tu scendi dalle stelle. Il Museo Alfonsiano, le stanze dove il santo ha vissuto, andrebbero ancora più valorizzate e fatte conoscere al mondo intero, immaginando un turismo di pellegrini da ogni dove. Questo l'input che le varie amministrazioni comunali di Pagania negli anni avrebbero sempre voluto imprimere, ma di difficile permeabilità. È per questo che l'attuale giunta comunale ha puntato quest'anno su una settimana di eventi in preparazione dell'anno giubilare che vedrà nel 2025 la statua di Sant'Alfonso uscire per le strade della città dopo 25 anni. Questa grande festa di quest'anno, che ha richiesto comunque un impegno notevole anche da un punto di vista finanziario, si è resa possibile grazie nuovamente ad una comunione di intenti. Direi che questo forse è stato il primo vero grande messaggio del nostro, mi piace pensare, del nostro santo patrono. Abbiamo ricevuto l'apporto notevole da parte di imprenditori e realtà commerciali del territorio che hanno voluto sostenere questo progetto, sì di festeggiamenti civili, ma tutto questo però portando avanti l'obiettivo finale e quello principale, ossia ridare importanza a Sant'Alfonso. È una progettualità anche economica condivisa che ha permesso di realizzare tutto questo, perché ricordiamo che se un territorio realizza e progetta delle iniziative, questo favorisce non solo il coinvolgimento della comunità locale, non solo la conoscenza del territorio, ma anche lo sviluppo del commercio, nonché di quello che noi vorremmo tanto realizzare, ossia un turismo religioso che metta al centro Sant'Alfonso. Questi festeggiamenti serviranno poi a prepararci all'anno prossimo, che sarà l'anno giubilare. Il santo uscirà nuovamente dalla chiesa dopo 25 anni e tornerà tra le strade della sua città. Oggi abbiamo proprio il cuore della festa, il momento puramente religioso, stasera la messa solenne. Proseguiamo domani con tanto divertimento, con febbre italiana, vi aspettiamo tutti per cantare e ballare al ritmo degli anni 90, dopodiché poi si proseguirà il tre con l'orchestra rua, quindi ritorniamo a quella che era una tradizione di questa festa patronale, 25 elementi sul palco che ci alliteranno con questa musica di grande spessore, un spettacolo che potrà essere goduto sulle sedute che saranno messe, appunto, allocate in piazza. Poi, sì, il 4 avremo un saluto da parte della Paganese, calcio che non ha voluto far mancare la sua presenza in queste giornate di festa, a seguire Red Robbins, un gruppo di giovani artisti emergenti sempre locali e dopo un esponente del funk italiano Max Corfini. Il 5 avremo i tre tenori, uno spettacolo che sulla costiera sorrentina, devo dire, ha riscosso grande successo. E poi il 6 ci sposteremo tutti in Arena Pignataro per partecipare a questo evento di Clementino, dove ovviamente attendiamo tanti visitatori anche da, insomma, in generale da tutta la regione. Quindi sette serate diverse, totalmente diverse, che appassionano e coinvolgono fasce di età a 360 gradi, gusti diversi, delle serate estive che direi ci devono servire soprattutto a stare insieme, a passare delle serate importanti e a rimettere al centro un santo che, non mi stancherò mai di dirlo, troppo spesso viene dimenticato, troppo spesso si trascure il valore artissimo che ha avuto non solo da un punto di vista puramente religioso, ma anche artistico.